Monitoraggio server con Synology Active Insight. Cos'è e come funziona? Cos'è Active Insight? Una soluzione per monitorare e gestire server a distanza attraverso un unico pannello web. Synology ha annunciato la disponibilità di Active Insight, un'innovativa e completa piattaforma di gestione e monitoraggio dei server ospitata sul cloud. Utilizzandola gli amministratori possono proteggere i loro sistemi Synology in tutto il mondo del rischio di guasti hardware. Perdita di dati, attività sospette, vulnerabilità software e tanto altro. Active Insight unisce sotto un unico ombrello le metriche relative alle prestazioni del sistema, le informazioni sullo stato, i registri delle attività e gli avvisi di sicurezza più importanti. Una dashboard web chiara e intuitiva si adatta alle esigenze di ogni utente, sia che debba gestire a distanza solo un paio di sistemi, Synology o centinaia di server. La nuova piattaforma offre una panoramica istantanea dei dati più importanti e aiuta gli utenti a superare facilmente i colli di bottiglia e i problemi più comuni. Report, avvisi e notifiche sono una parte essenziale di Active Insight e consentono al servizio di offrire una protezione costante. Quando gli amministratori non hanno tempo per controllare proattivamente i loro sistemi, Active Insight continua ad effettuarne il monitoraggio attivo per rilevare i segnali di eventuali problemi e acquisire i dati per identificare le minacce in tempo reale o per Lo svolgimento di successive attività di analisi Quando Active Insight valuta che una metrica possa indicare la sussistenza di un rischio per i sistemi o i dati gli amministratori, vengono informati con il contestuale invio di informazioni sulle possibili cause e sugli step necessari per la soluzione del problema. È possibile impostare dei valori di soglia personalizzati in base alle esigenze o valutazioni individuali. Con l'app mobile Active Insight il personale può scegliere di restare sempre aggiornato mediante le notifiche push. Gli amministratori possono quindi accedere ai dati aggregati per monitorare la sicurezza globale dell'implementazione, controllare la situazione per ogni dispositivo, analizzare i record dettagliati e intervenire di conseguenza, il tutto da una stessa apoconsole web. Una panoramica sugli stati di backup di ogni dispositivo aiuta i clienti a proteggersi da eventuali lacune nella protezione dei dati sui sistemi sinologi dovute ad attività di backup fallite o parziali e facilita l'ulteriore ispezione dei dispositivi interessati. La funzionalità di gestione degli aggiornamenti anch'essa integrata in Active Insight permette di verificare la versione del sistema operativo sinologi DSM e degli altri pacchetti così da rilevare firmware e software obsoleti. Eventuali aggiornamenti possono essere forzati direttamente dall'interfaccia online. Active Insight si affida ai dati di telemetria forniti dai dispositivi host e non richiede ulteriori attività di configurazione o manutenzione. Gli utenti possono monitorare e gestire le implementazioni dei vari client aggiungendo più account sinologi sulla piattaforma Active Insight. In questo modo Active Insight si configura come uno strumento estremamente conveniente per le organizzazioni e i team che vogliono Ottimizzare le attività di monitoraggio dei dispositivi internamente o esternamente all'impresa. Centinaia di migliaia di utenti hanno testato Active Insight durante il periodo beta e hanno provato di persona come la sorveglianza. La gestione e la sicurezza avanzata aiutano aziende e fornitori di servizi IT a proteggere i server sinologi in tutto il mondo. Ha dichiarato Inge Wang, Product Manager Sinology Inc. Anche mentre lanciamo il servizio, stiamo lavorando a diverse nuove funzionalità che annunceremo prossimamente. Active Insight è disponibile a partire da oggi nei piani free e premium entrambi attivabili mediante account sinologi. Tutte le funzionalità premium possono essere provate gratis per 60 giorni. Chi si abbona entro la fine del 2022 ha diritto a uno sconto fino al 50% sulle prevendite. Maggiori informazioni su abbonamenti e sconti sono disponibili in queste pagine. Grazie a tutti.